Federico Di Camillo, portiere della Chaminade Campobasso, la scorsa stagione hai giocato da titolare, hai confermato anche per questa che verrà, quali sono i tuoi obiettivi e cosa ti aspetti? Innanzitutto mi aspetto che faremo un bel campionato, anche se è difficile perché comunque stanno molte squadre attrezzate, però sono sicuro che anche noi diremo la nostra e da un punto di vista personale spero che sia una stagione ricca di obiettivi che mi sono prefissato e che spero di riuscirli a raggiungere. È uscito anche il girone, è sempre lo stesso, il girone G, cosa pensi, quali saranno gli obiettivi, i risultati che porterete a casa? Innanzitutto cercheremo sempre di dare il massimo e di portare a casa tutte le partite, però come ho detto prima è una stagione con squadre che appunto si sono attrezzate e quindi non sarà molto semplice, però con il duro lavoro e con fatica riusciremo a dire la nostra. Sembrate un gruppo molto unito, quali sono i vostri punti di forza e cosa hai fatto andare avanti tutti insieme la scorsa stagione? Allora innanzitutto i punti di forza sono che siamo stati un gruppo affiatato, tutti amici, anche chi ha dovuto abbandonare per chi vive per via del covid ci è sempre stato vicino e ci ha sempre sostenuto e quindi spero che questa atmosfera ci sarà anche quest'anno.